Se rivuoi la ragazzina viva, ascolta senza parlare. La consegna avverrà questa notte alle 11. Dovrete portare 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari? Che credi di aver rapito Chelsea Clinton? Al detective James Carter piaceva il suo lavoro. Sì! Finché il lavoro non diventò troppo pericoloso. Vi restano 29 minuti. Ho tutto sotto controllo! Voglio parlare con mia figlia. Stavo per riavere la bambina e tu hai mandato tutto all'anno. Vorrei che uno dei miei uomini gli aiutasse. È venuto il momento di far intervenire il maestro. Dimmi che parli la mia lingua. Capisci almeno qualcosa? Ah, il bitch voice. Oh, diavolo no. Non toccare mai la radio di un ragazzo negro. Due poliziotti che non hanno nulla in comune. A parte il caso. Pronto. È l'ultima possibilità. Che non riescono a risolvere. Non mi frega niente né di lui né di te. Mi frega solo della piccola. Cazzo! Allora, chi di voi mi ha preso a calci? Non muovete. Le mani più veloci dell'Oriente incontrano la lingua più veloce dell'Occidente. Jackie Chan. Non ce lo faccio più! Tieni duro, amico. Torno subito. Chris Tucker. Tutto bene? FBI? Una foto? Ok, un momento. Stolpe. Eh. 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 Awa